Resta aperta fino al 28 febbraio nella biblioteca della regione la mostra Il risorgimento sui piatti. Le scene raffigurate su un'ottantina di piatti riguardano gli episodi centrali del risorgimento italiano e soprattutto gli avvenimenti del 1859-1860, battaglie armistizi, l'imperatore Napoleone III, Garibaldi e l'impresa dei Mille. All'inaugurazione della mostra hanno partecipato i curatori e il consigliere Gianfranco Novero per l'ufficio di presidenza dell'Assemblea regionale. Questi piatti, la nascita di questa tecnica è la prima metà del Settecento, è una tecnica inglese del transfer print, nel senso che si applicava su una base neutra una sorta di moderna, un disegno fatto in larga scala che veniva poi applicato in larga scala su tanti modelli. I francesi acquisirono questa tecnica alla fine del Settecento e la importarono in Francia e poi, diciamo, tecnica che poi nell'Ottocento si spostò in parte anche in Italia. È uno scampo di storia attraverso un'esposizione di piatti, interessantissimo. È stato anche presente un collega del Consiglio regionale della Valle d'Aosta che io ringrazio per la sua presenza e spero che sia la partenza per una collaborazione fra Regione Piemonte e Regione Valle d'Aosta.